Sta succedendo qualcosa all'inchiesa? Sì. Ti dispiace se do un'occhiata? No. Mi piace come tutto è così curato, è pieno di fiorellini, c'è la cassetta della posta, ci sono queste belle tendine, è preciso in ogni dettaglio. Oh mio Dio! Cosa stanno facendo? Chi sono quelli? Dei soldati nazisti, che torturano Ugi. Perché? Lo odiano. Perché è americano? Perché è diverso. Come andrà a finire per lui? È complicata come storia. Beh, raccontamela.